... Guardatevi intorno. Domani non possiamo vincere. Non siete una squadra da titolo. Siete stati fortunati finora, ma... ...ma domani la fortuna vi abbandonerà. Per vincere a questi livelli dovreste avere... ...un cervello qui dentro da portare in campo. Dovreste riuscire a pensare. Ma questa squadra ha un'eccessiva quantità della carnagione sbagliata. Siete atleti, certo. Ma anche le scimmie lo sono. Sapete correre. Sapete saltare. Magari anche segnare ogni tanto da fuori, se allenati nel modo giusto. Ma per giocarvela con una squadra vera. Devo continuare o siete stufi di questa sfilza di assurdità? Io sono stufo. Così stufo che stanotte ho preso una decisione che metterà un freno a tutto questo. Per sempre. Lettino. Flornoy. Artis, Kager, Worsley, Hill. Shed. Cinque in quintetto. Due cambi. Quaranta minuti, sette giocatori. Farò giocare soltanto i giocatori neri nella finale di domani. Solo voi. Togo, Armstrong, Palazzo, Myers, Bodoin. So quanto avete sudato per arrivare qui. L'ultima cosa che desidero è ferire uno di voi. Coach, non posso mentire. Io voglio giocare. Tutti vogliamo giocare. Ma ora mi sento di dire solo una cosa. Domani sera dovete entrare in campo e mostrare quanto cattivi sanno essere cinque fratelli sul parquet. Ok? E se non difendi come si deve, Flornoy, prendo a calci quelle chiappe nere che ti ritrovi.